Dalla provincia al comune, da un'assessorata ad un altro, il passo non è così breve ma non è neanche nulla di minuzio? Sì, da un assessorato all'altro completamente diversi, una delega completamente inaspettata per la quale devo comunque iniziare a vedere come funziona la macchina amministrativa, continuare l'ottimo lavoro anche fatto dal precedente assessore e comunque sono contenta di poter mettere a disposizione la mia competenza per fare sempre meglio. E poi la delega più antipatica per i cittadini perché lei deve chiedere i soldi? Parrebbe di sì, sì, solitamente viene vista come una rogna però insomma cercheremo di vedere anche il lato positivo. Cosa cambia per lei? Devo un attimo mettermi a studiare e vedere come funziona adesso la cosa qui al comune perché adesso lasciare la provincia, cambiare anche la visione del comune che comunque ci porta a un contatto diretto anche con il cittadino, problematiche quotidiane che si conoscono perché io da cittadina le conosco e cercare di trovare una risposta che sia la più vicina agli interessi delle persone.